Apriamo amici, apriamo! Eh, e sai, può succedere, qualche fulmine qui ogni tanto ce l'abbiamo, ma calmo, tranquillo, eh? Sei in paradiso! E qui c'è serenità, pace, amore, questa parola la sentirai tanto. Vieni, 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 no, sì, no, non su di me, ecco, sì, magari porta la sedia che faccio vedere per esempio due anime innamorate.